Devo dire che Ampedusa è un'isola di 5.000 abitanti, nel mezzo del Mediterraneo. È un'isola che in questi anni ha fatto molto, ha fatto la sua parte nella gestione dei flussi e che oggi si trova veramente sotto pressione, perché è facile che ci sia un'emergenza quando c'è una popolazione di 5.000 abitanti. Se tu hai 5.000 abitanti e 5.000 migranti, si crea l'emergenza. Ecco, il segreto è non crearle l'emergenza, cioè è spostare in tempo reale, come è sempre avvenuto in passato, le persone che arrivavano verso altre destinazioni in Italia. Se questi spostamenti non ci sono, si crea l'imbuto e da lì l'emergenza. Dunque la cosa più necessaria da fare per mantenere questo equilibrio che in un'isola così piccola è prezioso è proprio accelerare i trasferimenti fuori dell'isola. E che cosa è cambiato però allora? Che cosa non funziona più in questo momento? Si parla di siti appunto dove transitare le persone, anche Treviso è stato citato in questi giorni, ma scoppiano le polemiche poi nelle sedi locali. Certo, quello che non funziona è proprio, come dicevo, il fatto che non si trasferisce con abbastanza speditezza da Lampedusa verso altre località, dicono che i centri sono pieni di migranti e dunque questo significa che bisogna infatti agire subito per fare dei piani di intervento che siano pronti quanto prima nell'eventualità che ci sia questo flusso dalla Libia. Dunque, il ministro Maroni ha fatto la riunione con gli antilocali, ha detto che si sta lavorando per l'opzione dei 50.000. Noi ci auguriamo che appunto quanto prima questo possa essere messo in atto.